A sta la vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal futuro e oggi ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Eccoci qua ragazzi, ritornati con il nostro potentissimo e orgoglioso Vegeta e oggi andremo a fare un nuovissimo allenamento qui al campo d'allenamento e andremo a sbloccare una nuova straordinaria abilità per Vegeta. Prima di cominciare però, se non volete essere terminati all'istante, mi raccomando ragazzi a recuperarvi, se non lo avete visto, lo scorso episodio in cui semplicemente siamo andati a potenziare le varie conoscenze e abilità di Vegeta, le abbiamo impostate e abbiamo utilizzato Vegeta Super Saiyan in alcune battaglie. Quindi ragazzi vi lascio il link in descrizione e la scheda qui in alto. Bene, detto questo, adesso ragazzi accediamo subitissimo a questo campo d'allenamento. Facciamo esamina, qui ragazzi con R1 passiamo all'elenco attacchi speciali di Vegeta, ne abbiamo già alcuni da sbloccare, ma ragazzi quello che ci interessa oggi è appunto il lampo finale. Il final flash devastante di Vegeta, una mossa ragazzi, un'abilità che a me piace tantissimo, non avete idea di quanto. Infatti questa mossa la utilizza la prima volta in assoluto contro Cell Perfetto, diciamo distruggendogli metà corpo che poi, vabbè, Cell si è rigenerato, ma comunque ragazzi la scena è stata totalmente epica. Poi ha continuato a utilizzare il final flash ad esempio in Dragon Ball Super contro appunto Maghetta e contro Jiren nel torneo del potere. Quindi ragazzi è una mossa che Vegeta continua a utilizzare, quindi ci fa piacere e ragazzi non vedo l'ora appunto di sbloccarla qui nel gioco, dato che c'era la scena anche qui nel gioco, ma ragazzi è stata completamente tagliata. Cioè Vegeta ha affrontato Cell Perfetto ma non ci hanno mai fatto vedere proprio la scena in cui carica per tipo parecchi minuti il final flash, poi lo lancia distruggendo a metà il corpo di Cell, come sappiamo. Solo che ragazzi nel gioco non abbiamo avuto questa fortuna, non abbiamo avuto la fortuna di vedere questa scena bellissima perché l'hanno tagliata, cioè il tutto era ridotto all'osso, le scene ridotte all'osso e ci siamo persi questa fantastica scena. Infatti in quella missione storia sono rimasto totalmente allibito e amareggiato, dispiaciuto che non c'era la mossa. Cioè ragazzi quella scena è davvero epicissima, una delle più epiche di Dragon Ball Z e non l'hanno messa, io mi chiedo ancora il perché. Comunque la cosa positiva è che possiamo usare questa mossa ragazzi contro tutti i nemici che vogliamo, dato che possiamo sbloccarla oggi e poi usarla da ora in poi contro tutti quanti e divertirci tantissimo. Quindi ragazzi lampo finale, aura richiesta 104. Mamma mia ragazzi, questa qui al momento è la mossa che consuma più aura in assoluto, più di tutte le mosse che abbiamo al momento. La descrizione dice rilascia l'aura caricata sotto forma di raggio devastante e questo ragazzi lo sappiamo, infatti quando l'ha fatta contro Cell Perfetto che cos'è successo? Che appunto questo raggio devastante lo ha preso a metà e appunto ragazzi è uscito fuori dal pianeta in una maniera assurda, senza fermarsi per nessun motivo. Quindi appunto è una mossa totalmente devastante. Consuma molta aura ma infligge danni enormi e voglio ben vedere. Adesso ragazzi mi immagino che ogni volta che usiamo sta mossa devastiamo un nemico subito, senza aspettare farlo più volte, questo mi immagino. Comunque livello consigliato 48, noi abbiamo Vegeta a livello 50 quindi ce la dovremmo fare. Come ottenere? Apprendi Super Cannone Galic livello 3 e noi ragazzi l'abbiamo già fatto, l'abbiamo potenziato già a livello 3 e 8 medaglie D che già abbiamo, ne abbiamo 51 al momento. In carico sconfiggi tutti i nemici abbiamo il nostro caro Vegeta di livello 50 che si può trasformare in Super Saiyan contro 3 Vegeta di livello 48 però della saga dei Saiyan. Quindi ragazzi si nota tantissimo, abbiamo il viso di questo Vegeta che è molto diverso da quello del nostro Vegeta e appunto ragazzi si nota a malapena sotto che è appunto la tuta da combattimento quella lì della saga dei Saiyan. Quindi sono inferiori al nostro Vegeta e di regola non hanno il Super Saiyan. Quindi ragazzi io sono davvero prontissimo, non vedo l'ora appunto di sbloccare questo Final Flash lampo finale e appunto iniziare ad utilizzarlo. Quindi facciamo conferma, vuoi provare ad apprendere lampo finale? Sì ragazzi assolutamente, non avete idea di quanto sono contento di poter sbloccare questa mossa e di poterla utilizzare poi con Vegeta, dato che si tratta di una mossa suprema di Vegeta. Quindi ragazzi tanta roba, oddio! Partono ragazzi subito con il lampo finale, già ce lo siamo spoilerati. Ma com'è possibile che questi qui della saga dei Saiyan hanno già il lampo finale? Non è possibile, ce l'hanno già prima di noi. Cioè ho capito che è un allenamento, ma ragazzi non è normale come cosa, cioè oddio! Ragazzi facciamo attacco Big Bang contro sti maledetti, iniziamo un po' a devastarli, attenzione a questo qui. Ok ragazzi, Super Canone Galic, lo facciamo noi ragazzi di risposta a quel maledetto. Oddio, ci ricarichiamo, facciamo Super Saiyan, dato che loro non ce l'hanno, quindi bene così. Oddio ragazzi, stiamo attenti, mamma mia ci fanno attacchi da tutte le parti. Ti attacco, Big Bang, benissimo, benissimo ragazzi, iniziamo un po' a devastarli, se no qua non ci finiamo più. Vedo che comunque sono belli resistenti. Vai, benissimo ragazzi, benissimo, perfetto. Allora, fallo venire a questo qui. Ah, non ci fa nulla, così ragazzi, viene e non ci fa nulla, cioè è assurdo. Ok, andiamo con un po' di combo, vado ragazzi. Oh, perfetto, leviamoci adesso assolutamente. Ok, vado di Super Canone Galic allora. Abbiamo beccato ragazzi giusto un po' ad uno. Vabbè, va bene lo stesso, basta che colpiamo gli avversari. Ok raga, attenti, attacco Big Bang, rispondiamo al fuoco. Bene, bene ragazzi, dai, quasi devastato totalmente quello lì. Ok, dai, partiamo con un attacco Big Bang un'altra volta, distrutto ragazzi. L'abbiamo visto scomparire totalmente. Oddio, oddio raga, attenzione, Super Canone Galic allora. E allora tutta potenza raga, peccato che non abbiamo ancora il lampo finale qui adesso, sarebbe stato molto, molto utile. Oddio, e lo fa lui ragazzi, manco a dirlo, già lo fa lui, oddio. Dai ragazzi, partiamo con un po' di combo. Leviamoci adesso immediatamente. Ok, perfetto ragazzi. Allora facciamo Super Rafica Energetica. Vediamo un po' di farla ragazzi. Dai, dai che lo blocchiamo. Dai, forza Vegeta, distruggilo. Perfetto, e ci fa il Big Bang ragazzi, quell'altro maledetto accanto. Oddio, facciamo ragazzi appunto un Senzu. Ci prendiamo un Senzu giusto così. Allora facciamo ragazzi, appena possiamo qualche altro attacco potentissimo. Super Canone Galic allora. Vai, perfetto. Ragazzi, facciamo appunto Onda dell'Aura, ripetizione. Dai, gliela facciamo ragazzi con Super Saiyan. Benissimo, vai Vegeta, fagliela sta mossa. Anche se non è tanto tanto potente. Vediamo ragazzi, non concludiamo così. Appunto ci ricarichiamo. Vorrei concludere con un bel Big Bang ragazzi. Vado, distrutti tutti quanti ragazzi. Fine, ce l'abbiamo fatta. È stata un attimino un po' dura. Perfetto, hai appreso il lampo finale. Sta cosa ragazzi mi dà una gioia davvero incredibile. Perfetto, eccoci qua all'interno della griglia abilità di Vegeta. E ragazzi, ovviamente ci dobbiamo mettere il lampo finale. Quindi vado a levare la super raffica energetica che ragazzi non uso molto e ci interessa ovviamente molto di più il lampo finale. Facciamo conferma e ragazzi andiamo subito a trovare il lampo finale, il carissimo lampo finale. Eccolo qua ragazzi alla fine della lista. Su questo gioco funziona così. Ogni volta che si sblocca una nuova mossa si trova sempre in basso alla lista. Quindi ci clicchiamo. E adesso ragazzi finalmente ce l'abbiamo. Mamma mia che emozione. E qui sotto ragazzi dice Aura richiesta 104. Quindi questa qui ragazzi, almeno al momento, è appunto la mossa di Vegeta che utilizza più Aura in assoluto rispetto a tutte le altre mosse che abbiamo al momento. Quindi fantastico. Io la tratto come una mossa suprema. Dato che ragazzi lo è anche in Xenoverse 2. Vegeta Super Saiyan, o chiamato anche Super Vegeta, utilizza il lampo finale come suprema. E anche qui ragazzi diciamo che è la stessa cosa anche se vengono chiamati attacchi speciali. Quindi ragazzi passiamo subitissimo a Schema, abilità, attacchi speciali e controlliamo dove sta il lampo finale. Eccolo qua. Livello 1. Ma qui ragazzi possiamo potenziare? No. Dobbiamo raggiungere il livello 65. Va bene? Qui in alto abbiamo il potenziamento al livello 2 della prima maestria, potenza scatenata. Che ragazzi ci dà più 30% danni inflitti ma i tuoi punti salute calano lentamente nel corso della battaglia. Ecco perché nelle battaglie cala sempre appunto la vita, perché c'è il malus di questa maestria. Quindi ragazzi ci clicchiamo. Vuoi apprendere potenza scatenata al livello 2? Sì ragazzi, assolutamente. Mentre per quanto riguarda il livello 3 dobbiamo raggiungere il livello 65 anche qui. Quindi ragazzi ci tocca aspettare. E qui ragazzi vedo che c'è un altro potenziamento per le conoscenze. Qui abbiamo colpo devastante che possiamo potenziare al livello 2. Ci dà più 10% danni spezzaguardia inflitti. Quindi lo facciamo. Sì ragazzi. E quindi al momento di regola appunto abbiamo potenziato tutto quanto. Poi appena ci saranno altri potenziamenti li verremo subito a fare. Bene, adesso ragazzi viene il momento più importante di tutti. Ovvero il momento in cui andiamo a provare il lampo finale contro dei nemici in battaglia. Perfetto ragazzi. Ecco qui le nostre prede di oggi su cui utilizzare il lampo finale. Quindi non ce ne facciamo scappare. Abbiamo di tutto e di più ragazzi. Quindi ecco qua soldati di Freezer. Ci vanno benissimo. Ma non sanno ragazzi che stanno per essere devastati totalmente. Quindi che facciamo ragazzi? Teniamoci pronti. Ok adesso ci trasformiamo ragazzi in Super Saiyan. Ok così da fare le cose per bene. Proprio come nella saga di Cell ragazzi. Proprio come Cell. Quindi ad esempio prendiamone uno ragazzi. Ok leviamoci. E ragazzi facciamo appunto contro di lui il lampo finale. Vai Vegeta! Oddio ragazzi! Devastato totalmente! Ma l'avete visto ragazzi quanto è grande il raggio? Ragazzi avete visto quanto è grande il raggio del lampo finale? Molto più grosso ad esempio della Super Kamehameha di Goku. Ma tanto tanto gigante. Questa qui ragazzi è una mossa totalmente distruttiva. Cioè raga guardate un po'. Una sola volta la devi fare e distrugge tutti quanti. Sono contento di questo ragazzi ovviamente. Ma mamma mia non me l'aspettavo così potente. Allora lampo finale ragazzi. Oh guardate un po' ragazzi. Vegeta piccolissimo rispetto al suo raggio che sta lanciando. Non so se avete notato. Fantastico ragazzi. Peccato che non c'è Super Vegeta come trasformazione con il lampo finale. Peccato davvero. Prendiamo un senso. Ragazzi facciamo appunto il lampo finale contro quel piccolo robot. Robot distrutti ragazzi tutti quanti. Mamma mia esperienza ottenuta. 22.000 grado S. E ragazzi abbiamo appena provato il lampo finale. Davvero bellissimo. Con quel colore ragazzi giallo. Davvero luminoso. Fantastico. Poi è una mossa davvero gigante. Molto di più della Super Kamehameha. Infatti rimango ragazzi tanto tanto allibito di questo. Ma più che altro ho notato un'altra cosa fantastica. Ovvero che basta fare una volta sola il lampo finale contro i vari nemici per distruggerli. Cioè una volta sola per ogni nemico e lo togli di mezzo. Quindi ragazzi una roba davvero spettacolare. Finalmente il caro Vegeta dispone adesso del caro lampo finale. Cioè ragazzi io non vedevo sinceramente l'ora di sbloccare questo attacco speciale. Che in realtà è un attacco supremo si vede chiaramente. Perché ragazzi so che è un'arma davvero devastante sta mossa. Davvero come una bomba atomica. Ed è una delle mosse classiche di Vegeta. Cioè se non hai questa su Vegeta è un po' brutto ragazzi. Come se manca qualcosa. Adesso che ce l'abbiamo mi sento molto più completo. La useremo tranquillamente contro i nemici. Come mossa primaria. Poi useremo anche il Big Bang Attack. E anche il Super Cannone Galic. Un po' queste tre in base ragazzi alla situazione. Ma sicuramente il lampo finale sarà la mia preferita in assoluto. E ragazzi tra l'altro mi ricorda i tanti bei momenti. In cui Vegeta ha fatto sta mossa. Contro Cell contro Maghetta contro appunto Jiren appunto al torneo del potere. Quindi ragazzi diciamo che l'ha sfoggiata nei momenti più critici per far fuori subito l'avversario. Ovviamente per me ragazzi la scena più epica è quella contro Cell perfetto in Dragon Ball Z. Quando appunto sembra che lo ha praticamente già distrutto. Solo che poi Cell si rigenera. Però diciamo che in quel momento tutti quanti abbiamo creduto che lo avesse quasi fatto fuori. O comunque danneggiato gravemente. Come avete visto il lampo finale non è l'unica mossa che andava sbloccata. Sì questa ce l'abbiamo. Ma ragazzi prossimamente nei vari episodi andremo a fare gli altri allenamenti che ci sono da fare. E sbloccheremo tante nuove abilità. Ovviamente mi raccomando fatemi sapere la vostra su tutto questo episodio. Fatemi sapere che cosa ne pensate del mitico lampo finale. Se vi piace come attacco speciale o meno. E se vi sembra potente o meno. Fatemi sapere qual è la vostra mossa preferita di Vegeta tra il super canone Galic, il Big Bang Attack e il lampo finale. Fatemi sapere se avete sbloccato con l'allenamento il lampo finale. E se lo utilizzate con Vegeta in battaglia. Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' divertito. Se volete ragazzi lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. E ricordatevi sempre che io tornerò.